Con il concerto del maestro Roberto Giordano è stato inaugurato l'auditorium che si trova all'interno degli ambienti della nuova scuola Morra di Camucia, pronto ad accogliere iniziative culturali e sociali. Presentata anche la nuova scuola di musica comunale che ha trovato spazio in alcune aule dello stesso plesso. L'amministrazione comunale da sempre crede nella musica, quindi ringraziamo la scuola di musica comunale ma soprattutto anche il dottor Alfonso Noto che insieme a noi ha condiviso di affidare i locali che peraltro rimanevano vuoti alla scuola di musica. È molto importante perché è ricca di iscrizioni di ragazzi, di persone emergenti e di maestri di altro profilo. Oggi stiamo qui ad inaugurare i locali e ad ascoltare un ottimo concerto del maestro Giordano. La scuola è aperta a tutti i livelli di età, dai bambini agli adulti e abbiamo corsi di strumenti ad arco, violino, viola, violoncello e contrabbasso e strumenti a fiato, tromba e flauto. E poi c'è tutta la parte moderna di canto moderno, chitarra elettrica, jazz, batteria e basso elettrico.